Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La storia d'amore tra Greta Rossetti e Sergio Dottavi è giunta al Capolinea. I due si erano conosciuti durante l'ultima edizione del Grande Fratello, ma purtroppo la loro relazione non è riuscita a resistere alle sfide della vita di tutti i giorni. Dopo molte voci e pettegolezzi, Greta Rossetti ha finalmente confermato la rottura con Sergio Dottavi. L'ex concorrente del Grande Fratello ha ammesso di aver aspettato fino all'ultimo momento per rendere pubblica la separazione, nella speranza di un possibile ritorno di fiamma. Mi ritrovo nuovamente qui a scrivere un comunicato alle 5 del mattino, questa volta con il rammarico che tutto stava andando perfettamente, ha dichiarato. Greta Rossetti, senza entrare nei dettagli della rottura, ha aggiunto di aver imparato che le cose possono cambiare rapidamente e talvolta bisogna solo accettarle. Ha sottolineato di non voler rivelare i motivi della separazione con Sergio Dottavi per rispetto dell'amore che provava, ma ha chiesto ai fan di non credere a tutto ciò che leggono in rete. La Rossetti ha concluso ammettendo che Condottavi stavano costruendo molto insieme e che ancora fatica a credere alla fine della loro relazione. Resta da vedere se questa sarà una scelta definitiva. La coppia ha deciso di mantenere privati i motivi della rottura, ma l'annuncio ha scosso i fan che seguivano con interesse la loro storia d'amore.